Rafforzare la presenza e la competitività in Toscana di Magna Closures, multinazionale specializzata in componentistica per autovetture che dà lavoro a 562 dipendenti. È l'obiettivo del protocollo firmato dalla Regione Toscana nella sede dell'azienda Colle Salvetti, che porterà Magna Closures a investire 2 milioni di euro in innovazione tecnologica, uno messo a disposizione dalla Regione con la garanzia dell'azienda all'assunzione di 27 lavoratori. La Regione si impegna dal canto suo a favorire l'accesso ai bandi regionali, che sostengono innovazione, ricerca e formazione del personale. Obiettivo dell'intesa, firmata Colle Salvetti, che dura due anni, far tornare l'azienda ai livelli occupazionali e produttivi precedenti alla crisi, attraverso sinergie con le università e con nuovi piani di espansione.